Ehi, cara signorina, dovevo vedere come ci libravamo nell'aereo. Schiattate, ma non c'avevate paura? Già, uo uomo, paura. Ci chiamano i demerati delle nuvole. Eccomi qua, ho appena ritirato le foto. Le foto? Queste. Posso? Ci ha fatte le foto. Eh sì, ci siamo divertiti molto facendo i burloni a cavallo. E qui che ve stavate ammazzate? Le risate? No, lì più che altro ce stavamo ammazzate. Schiattata. Ecco il caffè, ci voleva per rimetterci in forma. Papà, senti com'è buono. E qualità rossa, più lo mandi giù e più ti dia su. Pronti per un altro giro? Di caffè. Di cavallo. Di cavallo? Sì, vi ho iscritto a una scuola di equitazione per migliorare lo stile. Signor Pegasus, abbia pietà di noi, ma tu non c'hai paura. Schiattata.